Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi andremo a instaurare i mook insieme e benvenuti ragazzi andremo dalla mia hair style ma ragazzi per prima di entrare il negozio della mia parrucchia si bisogna venire un attimo sulla mia parrucchia che vi ha ai gatti la strada è contata già scusa e quindi ora ve la faccio vedere e come potete vedere è piena di buchi di frost e di maianne forse ti fanno anche gli occhi, non lo so e farò un video a posto per segnalare tutti gli schifoli mazzapiedi che presenta nuova artista e questo è il negozio della mia tenda e ciao ragazzi sono in una posizione ostile e questo è davanti i capelli e 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 i capelli guarda che abbiamo fatto Barbara ce l'ha detto prima si e adesso gli facciamo un bel dopo eh Julian eh si va bene buona Meno male che noi non diamo retta alla mamma, ne hai Giulia? Esatto, Giulia. Ma quando mai mi avete detto? Mai. Mai. Diglielo un po', Giulia. Esatto. Guarda. Ed è fatto. Non puoi? Diglielo. Se vogliamo, accorciamo dopo. Che ne pensi? E' uno, due, tre. E' uno, due, tre. E' uno, due, tre. E' uno, due, tre. Ci sono più le mani che vorrebbero decidere. E' il piede a tutta. Giulia, tirava su brava così, amore. Così. Perché alla mamma puoi... Ho visto i capelli. Hai visto? Che bella. Come sembra, rimorca il giorno nuova per tagliare i capelli. Ho ragione. Guardate la lunghezza. Perché io sia da fare lunghezza. Ah, studiamo! Ma che... Io sono sia peccadina ma sia buona. E questo è il stato. Iscrivetevi qui sotto in un commento se vi è piaciuto questo video. E soprattutto, come sai, con questo taglio è importante per me. Lo sapete. E il paese di miei fan. Lo sapete. Ciao! Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!